Aggiornamento di Sheldanidel per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica. 23 Novembre 2010. Selamatierin. Torniamo con altri argomenti per parlarne con voi. Nel vostro pianeta sta iniziando a manifestarsi un immenso collasso economico. Molti ne sono al corrente e stanno rapidamente liquidando i loro investimenti azionari e obbligazionari nei mercati finanziari mondiali. Questi investitori ricchi e influenti riconoscono che i loro referenti della cabala sono destinati ad affrontare un futuro cupo e sgradevole. L'attuale sistema economico continua ad operare, e nonostante sia evidente quanto si sta prospettando, la cabala resta determinata nel tentativo di trovare una via d'uscita da questa difficile situazione. I loro piani sempre più disperati evidenziano le condizioni ormai incurabili del vostro mondo, con l'unica via di uscita che consiste nell'accettare l'inevitabile e nel consentire che il grande piano degli alleati di terra possa manifestarsi pienamente. Purtroppo la cabala considera questa come l'eventuale ultima possibilità. Ma resta che questo è l'unico modo per gestire la calamita in modo semplice e per permettere a tutti voi una sicura e duratura prosperità. Questa prosperità sarò preservata dalle manipolazioni dei cabalisti, e questo li spaventa molto. Le attuali condizioni globali sembrano mostrare piccoli segnali di stabilizzazione nelle economie di diverse nazioni, ma queste indicazioni non rappresentano le reali condizioni di base, che continuano a peggiorare. I cabalisti conoscono la verità riguardo il fallimento dei loro recenti tentativi, finalizzati ad acquisire il controllo sulle riserve d'oro mondiali ufficiali e segrete, sono un altro segnale di panico e di sgomento che prefigura ciò che è in serbo per loro. È lodevole, che i nostri alleati siano riusciti a mantenere il controllo sulla maggior parte dell'oro custodito nel mondo, e che siano stati in grado di arginare eventuali trasferimenti significativi dai depositi in oro dalle banche centrali mondiali. Nel frattempo il valore delle valute nel mondo è in tensione prefigurando ulteriori svalutazioni dell'euro e del dollaro. È evidente, che l'era della moneta legale è quasi terminata. Da ogni parte arrivano riferimenti per un ritorno ad una moneta forte ed alcuni finanzieri, segretamente in accordo con i piani dei nostri alleati di terra, si stanno muovendo in questa direzione. L'imminente collasso del sistema monetario attuale è la diretta conseguenza del ripetersi di comportamenti fraudolenti ed ingannevoli, che hanno caratterizzato il sistema bancario mondiale fin dal periodo post-Seconda Guerra Mondiale. Si può veramente dire in questo caso, che i crimini dei padri saranno ricadranno sui figli, e lo notiamo quotidianamente osservando i fallimenti della cabala, alle prese con i loro recenti sfortunati stratagemmi. Osserviamo questa cabala mentre si dibatte, come un pesce sulla terra ferma mentre sta esalando il suo ultimo respiro. Questi cabalisti hanno tuttavia ancora una possibilità per uscire da questa dolorosa situazione e la piena collaborazione con i nostri alleati di terra. Potrebbero stupirsi comprendendo i benefici di una leale ed aperta cooperazione, che insieme si potrebbe realizzare. In effetti, il loro timore per le conseguenze sulla verità, che sarà presentata potrebbe essere molto meno grave di quello che ora temono. Inoltre, una sincera condivisione della loro immensa ricchezza può aiutare a raggiungere un certo grado di clemenza, in quanto ciò potrebbe cambiare drasticamente il modo in cui verrebbero percepiti dalla società. Gli Anunnaki furono saggi quando ordinarono loro di modificare le proprie abitudini e diventare più sensibili alle nuove modalità di percezione. Visto che il momento per condividere la prosperità a livello globale è arrivato, proponiamo questa via come un modo, per la cabala, di risolvere alcune delle loro attuali difficoltà con gli alleati di terra. Lo scopo attuale della nostra missione di primo contatto consiste nell'essere i difensori del cambiamento. L'operatività delle vostre realtà globali ha ormai raggiunto i limiti di sostenibilità. Questo significa che qualcosa deve cambiare e cambiare in fretta. E questo si aggiunge all'enorme cambiamento delle coscienze, che state attraversando, con particolare riferimento al vostro ambiente globale, che ora riflette inadeguatamente l'andamento dei vostri cambiamenti interiori. Dovreste a questo punto vivere in un mondo completamente diverso. L'era delle tenebre è alla fine il passaggio alla nuova realtà guidata dalla luce in corso. È triste vedere come gli oscuri stiano così disperatamente aggrappandosi ai loro vecchi metodi di controllo ed apparentemente non sono ancora disposti ad accettare alcune nuove ed interessanti prospettive. Varrebbe la pena di riconsiderare la saggezza di quest'intransigenza, essendo la forza per il cambiamento troppo tenace per insistere nel contrastarla. Una lunga serie di trasformazioni si sta presentando alla loro vista, e a cento acuto tempo di abbandonare ciò che non potrà in nessun modo essere rappezzato. Durante quel poco tempo, che rimane, la cabala dovrà dedicarsi completamente a predisporre un piano dettagliato da presentare ai nostri alleati di terra, con sincero spirito di cooperazione. Un simile cambiamento di atteggiamento potrà fare una grande differenza nei loro confronti. i nostri alleati di terra considerano le motivazioni per gli imminenti cambiamenti come un compito sacro, ispirato dai decreti del cielo. E il cielo ispira il perdono. Per fare in modo, che questo possa fiorire, si dovrà instaurare un clima di amore e di cooperazione. Ma nel caso d'ostruzionismo continuato, un destino ben più triste potrebbe essere proiettato su questa ultima cabala oscura. Comprendiamo il comportamento che i loro ex padroni Anunnaki hanno introdotto da vari millenni, ma questo è a cento acuto il momento per la cabala di abbandonare questi atteggiamenti, e raccontare la verità sugli ultimi millenni. Un simile atto, insieme con un atteggiamento di piena collaborazione, potrà alleggerire notevolmente il loro destino. Questa opportunità si sta rapidamente esaurendo ed è giunto il momento di seguire il nostro gentile grande consiglio. Madre Terra sta intensificando la sua attività per avvertire la popolazione di superficie, che una serie di grandi cambiamenti geologici è sul punto di iniziare. Il preludio a questa fase prenderà forma con un rapido aumento dei terremoti di magnitudo 7 più della scala Richter. Questi sussulti si manifesteranno in tutto il pianeta al fine di allertare tutta la popolazione su quanto sia importante dare corso all'inizio dei cambiamenti verso la piena consapevolezza e di trasferirsi nella Terra Cava per completarne il processo. Gaia si propone di unificare il suo mondo interiore con quello esteriore, e intende farlo in tre passaggi il primo passo ha portato ad una serie di enormi terremoti ed eruzioni vulcaniche tra gli anni 1870 e 2000. Il secondo passo, che è attualmente in corso, potrebbe essere potenzialmente catastrofico per l'uomo, pertanto Gaia intende portarlo avanti in varie fasi. La soluzione per l'umanità consiste nell'andare avanti, completando il passaggio verso la piena consapevolezza. Il vostro pianeta è un essere vivente in transizione, come lo siete tutti voi. Il veicolo principale per il ritorno alla piena consapevolezza è il primo contatto. Veniamo nel vostro mondo del tutto consci di queste sacre responsabilità. Allo stato attuale rimane nel vostro mondo un ultimo gruppo di potenti oscuri, che è stato da noi messo in guardia più volte su ciò che la loro attuale testardaggine può comportare. Eppure persistono nel tenersi stretto il loro potere e nel rifiutarvi i cambiamenti di cui avete tanto disperato bisogno. Il Cielo ci ha chiesto di eliminare le ultime barriere per il vostro ritorno alla piena consapevolezza, il modo in cui lo stiamo facendo consiste attualmente nel mettere bene in chiaro a questi oscuri, che la loro unica opzione intelligente è quella di incamminarsi sulla strada, che porterà alla libertà per l'intera società globale. Vogliamo inoltre rendere ben chiaro, che la mancanza di azioni positive, ora, può avere conseguenze disastrose. Il primo contatto è un'operazione che ci impegniamo a perseguire con successo. Abbiamo intenzione di rientrare solo quando tornerete ad essere nuovamente pienamente consapevoli e nel processo di formazione della vostra nuova nazione stellare. Gli Agartiani sono pronti ad aiutarvi e ad unirsi a questo sforzo appassionante. La riunificazione della Terra interiore ed esteriore sarà l'inizio del processo di ritorno di questo sistema solare ai suoi schemi di energia incontaminata. Siamo ansiosi di assistere ciò che siete in grado di compiere. Quando le prime conferenze intergalattiche si svolgeranno nella vostra nazione stellare, il vostro potenziale inizierà a far mostra di sé. Questa promessa era rimasta nascosta dentro di voi mentre passavate attraverso la vostra avventura di limitata coscienza, ora è accento acuto giunto per voi il momento per diventare quello per cui che siete stati creati. Oggi, abbiamo parlato delle nostre preoccupazioni per quanto riguarda i cabalisti oscuri, suggerendo loro un modo per attenuare sensibilmente le ripercussioni che la loro perfidia farà ricadere su di loro. Il percorso che decideranno di scegliere sarà in grado di fornire loro una preziosa opportunità per un'onorevole restituzione o, viceversa, un rimpianto amaro aggiunto alle pene, che il loro tradimento comporterà. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gayun. Selamat Yah, in Portiero Costanza 2003. La 3.